Buonasera dal Tg6, in apertura ancora il caso Ryanair, il caso delle lettere inviate ai dipendenti per il trasferimento dalla base di Pescara. Sul caso è intervenuto anche il consigliere con delega ai trasporti Camilo D'Alessandro che ha spiegato come si stia continuando a lavorare effettivamente per restare all'aeroporto d'Abruzzo con la compagnia Low Cost, il servizio di Paolo Renzetti. La Ryanair conferma di voler lasciare all'aeroporto di Pescara, sono arrivate nelle ultime ore le lettere di trasferimento per i dipendenti. E noi confermiamo tutto il lavoro per cercare di evitare questo tipo di conclusione, ci sono ancora qualche margine, molto risicato, molto ristretto, però abbiamo incassato il sì da parte dei privati. Ora ci vuole il tempo però per organizzare le due proposte che sono in campo, l'eva fiscale o comunque un piano di marketing che si autofinanzierebbe per poter contribuire poi alla parte non copribile con il contributo pubblico, però è evidente che ci vuole un po' di tempo, noi con queste due proposte sentiremo Ryanair e quindi vediamo se ci può essere una soluzione ponte per garantire la programmazione invernale delle rotte e quindi in quel caso poi ce l'abbiamo fatta perché avremo sia la disponibilità della quota pubblica già disponibile sia la disponibilità della quota privata. State pensando però anche eventualmente ad una soluzione alternativa? Il punto è che tutti sappiamo che il vettore low cost che fa fare i numeri agli aeroporti regionali come il nostro, ancorché di rivanza nazionale, è il Ryanair. Magari venissero anche altri ma non ci sono e questo è il dato di verità e questo comporterebbe il dato drammatico per l'aeroporto perché se noi scendiamo sotto i 500 mila passeggeri poi la conseguenza è che non siamo più aeroporto nazionale ma diventiamo aeroporto regionale e tutte le spese che oggi vengono coperte dallo Stato poi ricadrebbero addosso alla saga. Il forum abruzzese per i movimenti per l'acqua oggi è intervenuto sugli interventi strutturali per l'adeguamento sismico dell'autostrada dei parchi e chiede di fare chiarezza. Vediamo. Si parla di adeguamento sismico dell'autostrada Pescara Roma, voi avete chiesto l'UMI al Ministero, avete avuto delle risposte ma avete saputo anche altre cose, quali per esempio? Che Toto oltre a presentare qualcosa sull'adeguamento sismico ha presentato questi progetti di variante miliardari da 5 miliardi di euro per raddrizzare bucando le montagne abruzzesi il tracciato autostradale. Quindi facendo una variante appunto molto costosa che i cui costi sarebbero ricaduti poi sulle tariffe dei cittadini perché avrebbe comportato anche un prolungamento della concessione per decenni. Il Ministero ci ha risposto dicendo che questa proposta di Toto è unilaterale, è al di fuori del perimetro della concessione esistente, quindi stiamo parlando sostanzialmente di sogni di Toto che attualmente non hanno le basi per camminare. Bisogna sorvegliare e stare molto attenti perché questi sogni di un privato potrebbero in un futuro molto di là diventare realtà se qualcuno lo appoggerà. Noi crediamo che sia un progetto assolutamente folle perché andrebbe a bucare le montagne abruzzesi, i parchi abruzzesi, soprattutto dove c'è molta acqua che poi rifornisce le sorgenti da cui prendiamo anche acqua potabile. Quindi è un progetto da rigettare in generale, però è incredibile che si siano seguite delle procedure così basate sull'acqua per rimanere sul tema. Chiuse le indagini sulla morte di Anna Maria Mancini, la 57enne di Spoltore ha negato il 2 dicembre 2013 all'interno del sottopassaggio di Fontanelle a Pescara. Sono tre i rinvii a giudizio chiesti dalla procura e l'accusa è quella di aver piazzato pompe non idonee nel sottopassaggio. Il servizio di Alfredo Primante. La procura di Pescara ha presentato la richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito della vicenda relativa alla morte di Anna Maria Mancini, la donna di 57 anni di Santa Teresa di Spoltore, annegata nel dicembre del 2013 all'interno della sua automobile sommersa dall'acqua in un sottopassaggio di Fontanelle a Pescara. Sono tre gli imputati che rischiano ora il processo, Lucia Pepe, socio amministratore e legale rappresentante dell'impresa e re di Peppe Salvatore, che si era aggiudicata l'appalto per la realizzazione del sottopasso in sostituzione del passaggio a livello esistente, Giuliano Rossi, in qualità di direttore dei lavori e sottoscrittore del certificato di regolare esecuzione, Raffaele Bello come responsabile del cantiere. Invece esce definitivamente di scena Mario Fioretti, colonnello della Polizia Municipale di Pescara, responsabile della sicurezza stradale per il comune in quanto la sua posizione è stata archiviata. Secondo il pubblico ministero Silvia Santoro, che ha coordinato le indagini dei carabinieri diretti dal capitano Claudio Scarponi, nel sottopasso di Fontanelle sarebbero state installate due elettropompe con caratteristiche di potenza portata e prevalenza nettamente inferiore a quelle previste dal progetto. I tre imputati sono accusati di falso relativamente al certificato di regolare esecuzione dei lavori e sempre secondo l'accusa Pepe, Rossi e Bello avrebbero attestato falsamente che i lavori di realizzazione dell'opera erano stati regolarmente eseguiti. Inoltre, i tre avrebbero redatto la relazione e il verbale di collaudo statico dei lavori di realizzazione del sottopasso attestando falsamente che l'esito della visita del sopralluogo era stato positivo, non avendo riscontrato né difformità al progetto esecutivo né difformità tali da inficiare la sicurezza, le efficienze e la funzionalità dell'opera. L'udienza davanti al GUP del Tribunale di Pescaraggio a Luca Sarandrea, a carico di Pepe, Rossi e Bello accusati di omicidio colposo e falso, si terrà il prossimo 26 di aprile. Il marito della donna, Lamberto Galliero, autista della regione Abruzzo, e i due figli si sono costituiti parte civile. L'avvocato Mirko D'Alicandro, legale dei familiari della 57enne, chiederà il risarcimento danni e ha chiesto la citazione del comune di Pescara come responsabile civile. Restiamo ancora a parlare del sottopassaggio di Fontanelle. Sono terminati i lavori riguardanti la criticità legata alle pompe di sollevamento del sottopasso di Fontanelle. Il progetto redatto dal comune di Pescara si inserisce in una prima fase finalizzata alla riapertura totale del sottopasso che necessita dell'ulteriore placet da parte della Procura della Repubblica che lo posto sotto sequestra all'indomani dei fatti del 2013 anche per gli aspetti strutturali. Nel corso delle prossime ore si procederà il collaudo dell'impianto di sollevamento delle acque piovane e ad oggi munito di un gruppo di continuità capace di scongiurare eventuali interruzioni del sistema anche in caso di mancanza di corrente elettrica. I lavori svolti per un importo di 170 mila euro ci rendono fiduciosi che a breve tale disagio possa concludersi e la zona possa acquistare un sottopasso nuovo ed efficiente. Questa è la comunicazione da parte dell'amministrazione comunale. Ora parliamo dell'esercito perché sono stati consegnati gli attestati di sbocchi occupazionali. L'iniziativa del comando militare esercito mira il reinserimento di giovani militari congedati nel mondo del lavoro. Il servizio di Daniele Rosone. Sono stati consegnati oggi a Confindustria gli attestati ai 15 frequentatori dei corsi per addetto alla logistica, alla gestione di magazzino e abilitazione all'uso del carrello elevatore. Tra questi sei hanno già trovato impiego. L'iniziativa promossa dal comandante militare dell'esercito per l'Abruzzo, il generale di brigata Rino De Vito, fa parte del progetto sbocchi occupazionali che comprende un ampio ventaglio di attività volte a facilitare il reinserimento nel mondo del lavoro dei giovani volontari che hanno trascorso un periodo più o meno lungo nelle forze armate. Obiettivo principale di questo servizio è quindi di permettere ai volontari di effettuare una ricerca occupazionale consapevole e mirata con maggiori probabilità di successo, soprattutto attraverso i colloqui di orientamento al lavoro e l'incontro con le imprese, il cosiddetto matching. Gli ex militari che aderiscono al progetto possono vantare quasi sempre una provata esperienza a lavorare in team e in condizioni difficili, sia in ambito nazionale che internazionale. Il progetto, coordinato a livello nazionale dal Segretariato Generale della Difesa e a livello regionale dalle sezioni collocamento ed aeroformazione operanti all'interno dei comandi territoriali dell'esercito, può contare sulla collaborazione degli enti locali, in particolare la Regione Abruzzo, che ha iscritto il corso a catalogo dei centri per l'impiego, delle camere di commercio, di molte associazioni di categorie e aziende con cui sono state stipulate convenzioni operative e protocolli di intesa al fine di favorire l'accesso dei volontari, stage, tirocini formativi, corsi di formazione. Per la riuscita del corso hanno contribuito gli insegnanti e i docenti della Q110, officina di alta formazione, e le aziende del gruppo Pingue Fattorie e Fioravanti Supermercati per lo svolgimento dei tirocini pratici presso i punti vendita di Sulmona, Raiano e L'Aquila. Dal 2012, anno del mio insediamento al Comando Militare Esercito Abruzzo, abbiamo perseguito in queste iniziative, ovviamente per agevolare il collocamento dei giovani nel mondo del lavoro, dei giovani volontari concedati senza demerito, ma questo è per garantire loro una possibilità al termine del servizio espletato in Forza Armata coscienti che comunque siamo in una situazione di quadro congiunturale sfavorevole per quanto riguarda il mercato del mondo del lavoro. Quindi tutte le iniziative che possono essere perseguite dalla parte dell'amministrazione, dall'esercito in particolare, quale maggiore azionista del sistema difesa, vengono perseguite con dinamismo, coscienti però di quello, come avevo detto prima, del quadro congiunturale sfavorevole. Si terrà sabato prossimo presso il mercato coperto di Via Muzzi a Pescara il primo evento pubblico di Startup Community Party. Vediamo. Il progetto di Startup a Pescara, un importante appuntamento, si terrà sabato. Di cosa si tratta in particolare? Questo è il primo evento pubblico appunto che si terrà all'interno del mercato coperto sabato 27 dalle ore 17.30 in poi. Si svolgerà inizialmente con una pièce teatrale proprio sul lavoro condiviso, quindi in modo tale da capire immediatamente le scene, come si vive condividendo e lavorando insieme. Poi ci sarà un dibattito con alcuni ospiti che vengono da realtà di co-working a livello nazionale che già funzionano molto bene. E poi ci saranno il vero party, diciamo, quindi c'è la possibilità di conoscere il progetto, incontrare noi, i nostri partner, anche grazie allo sportello informativo su finanziamenti Startup, come aprire una nuova azienda. Vogliamo anche spiegare che cos'è lo Startup. È un progetto appunto dove il comune di Pescara è capofila insieme ad altri partner, come CNA, Confesercenti e CGL. È un progetto nato da un bando che è stato vinto del Lanci, comunemente giovani, proprio per promuovere quella che è la cultura della sharing economy che porterà appunto all'apertura di un co-working pubblico. In questo co-working pubblico ovviamente potranno lavorare tantissime professionalità, però prima di arrivare al co-working c'è bisogno, diciamo, un po' di sensibilizzare la cittadinanza su questo nuovo modello, perché è un po' una rivoluzione. Per questo motivo siamo stati scelti 25 peer educator che da ottobre fino a maggio prevedono una serie di formazioni e iniziative proprio su questi temi principali. Ed ora andiamo a Teramo dove c'è una nuova polemica. Lavori in corso per Corso San Giorgio e molti cittadini lo definiscono oggi un labirinto. Elisa Leuz. Il corso principale di Teramo, praticamente, come potete vedere dalle immagini, è un labirinto. È un labirinto, giusto? Giusto, ma ci voleva comunque. Miglioramenti ci vuole sempre. Miglioramenti ci vogliono. Che ne pensa però di come sono stati un attimino organizzati i lavori? Sempre sono stati dei lavori. Purtroppo quando arrivano i muratori in casa il disagio c'è sempre. Non mi pronuncio, guarda. Perché è un commento negativo? Negativo, molto. Si passeggia bene qui in centro? Non tanto, non tanto. Che ne pensa dei lavori? È da tanto tempo che fai i lavori, però qua non si risolve mai niente. Ricomincia, ricomincia da capo, è un fastidio enorme, però per i commercianti, certo. Non c'è qualcosa da commentare. Parla lui che è più esperto di me. È un grosso inconveniente, però è da subire perché purtroppo sono i lavori che si devono fare. Questo migliora la situazione del nostro bel corso, no? E quindi è inutile la merdazza. Va bene così. Questo è il punto praticamente più stretto, impercorribile anche per via delle polveri che si alzano dai lavori che stanno effettuando proprio in questo punto. L'importante è che non durino tanto, che ci sia un termine stabilito e che si possa rispettare. L'opera, il cui costo si aggira sui 3 milioni e 700 mila euro, finanziata con fondi europei, dovrebbe essere ultimata entro l'estate, così come annunciato dalla Giunta Comunale. Il Comune di Campli è il primo in Abruzzo ad aprire lo sportello per gli animali. Servirà per rispondere alle domande dei cittadini sulle questioni riguardanti la difesa e i diritti degli amici a quattro zampe. Vediamo. Un'altra importante iniziativa attivata nel capoluogo farnese, proprio in questi giorni, pone Campli capofila in tutto l'Abruzzo. Nasce infatti lo sportello per i diritti degli animali. Esatto, siamo contenti di presentare all'interno della convenzione che abbiamo fatto qualche settimana fa con l'OIPA il primo sportello a tutela dei diritti degli animali. Ci sembra un segnale importante che l'amministrazione del sindaco quaresimale vuole dare al territorio, a tutta la provincia, perché tutelare gli animali significa essere sensibili alle tematiche dei più deboli, delle persone che hanno bisogno. E soprattutto serve per sensibilizzare anche coloro che a Campli, ne sono pochi, però ancora non hanno una cultura dell'animale adeguata a quelli che sono i tempi moderni. Quali saranno i servizi? Ci sarà uno sportello che aprirà proprio presso Palazzo Farnese tutti i venerdì dalle 11 alle 13, per questo ringraziamo anche l'OIPA Teramo con la quale collaboriamo oramai da un po' di anni. Ogni cittadino che vuole può quindi venire e trovare accoglienza all'interno proprio del Palazzo Comunale. Tra i vari servizi che il Comune erogherà al cittadino ci sono sicuramente quello dell'adozione dei cani, quindi il regolamento Tari ha approvato proprio di sera, ha confermato la tariffa e l'agevolazione per tutti coloro che vorranno adottare cani registrati presso il Comune di Campli. E quindi noi speriamo di aiutare in questo modo anche tanti animali a trovare la loro casa. Il primo marzo in occasione della giornata del migrante si terrà uno spettacolo al Cinema Teatro Massimo di Pescara organizzato dalla Fondazione di Martin. Samanglana farà questo spettacolo proprio in occasione di questa iniziativa dell'Associazione di Martin e del CRAM, uno spettacolo importante per ribadire cosa in particolare? Che l'arte, la creatività, il teatro, la musica, se si occupano di questi temi, fanno sì che questi temi non vengono dimenticati o strumentalizzati dalla politica, ancora peggio. Quindi è bello dare voce a chi voce non ne ha ancora e vorrei ribadire che è una storia dell'Eritrea in questo caso e del Corno d'Africa in generale, è una storia molto vicina alla storia italiana. Questo spettacolo un po' racconta anche questo, cioè che le nostre storie sono state intrecciate nel passato e che quindi i frutti di questo intreccio ancora sono visibili nel presente e probabilmente anche nel futuro. Osamara racconta di questo intreccio. Come regione voi appoggiate in pieno questa iniziativa? Sicuramente è un'iniziativa lodevole, io sono convinto che nella nostra cultura, nel nostro DNA ci sta un grande affetto, una grande capacità di accoglienza e non quello che qualcuno magari dice pretestesamente in questi periodi per quanto riguarda l'accoglienza dei nostri immigrati. Abbiamo il dovere e il diritto e sicuramente la cultura per concepire un'accoglienza adeguata, un affetto, una solidarietà per i tanti uomini che dal Nord Africa vengono qui, uomini e donne nelle varie difficoltà dei territori di provenienza. La Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto è il monumento più visitato d'Abruzzo anche per il 2015 e punta una strategia di promozione globale attraverso un virtual tour. Vediamo. La Fortezza Borbonica si conferma anche per il 2015 il monumento più visitato d'Abruzzo con oltre 45 mila ingressi. È una cosa che chiaramente ci riempie d'orgoglio e ci fa capire che il percorso è quello giusto. Abbiamo raggiunto l'anno scorso un più 10%, abbiamo aggiunto anche quest'anno un più 10% rispetto all'anno precedente. I numeri ci confortano che la strada è quella giusta, è chiaro che c'è ancora molto e tanto da fare. Da ciò che vediamo dalle recensioni dei fruitori della Fortezza, sono sempre di più quelli contenti della visita, del trattamento che ricevono, di quello che vedono, di come è conservata la Fortezza. Questi sono i dati di TripAdvisor che sono liberi e fruibili a tutti. Un aumento importante c'è stato quest'anno di recensioni estremamente positive, mi sento di dire. E nel 2016 la Fortezza di Civitella punta a una strategia promozionale globale attraverso il virtual tour in 3D. Questo è un nuovo strumento che viene messo a disposizione dei fruitori della Fortezza, ma non solo, anche di visitatori in remoto, cioè persone che comunque si trovano in una situazione diversa da Civitella, che possono comunque godere delle bellezze della Fortezza visionando, navigando attraverso questo nuovo virtual tour. Una chicca, stiamo predisponendo anche una visualizzazione del virtual tour in 3D attraverso l'utilizzo dei VR Glasses, sono degli occhialini che vengono messi a disposizione, si possono comprare occhialini a un costo molto contenuto. Con l'utilizzo del proprio smartphone, lo smartphone si inserisce all'interno di questo speciale occhialino, si può vedere, navigare la Fortezza in 3D. E ora apriamo la pagina dello sport e la apriamo con le disegnazioni arbitrari per la settima giornata di ritorno della Serie B. Lanciano Bari è affidata a Riccardo Rossi di Pordenoni, gli assistenti Villa e dei giudici, e invece Pescara Ascoli sarà diretta da Riccardo Pinsani di Empoli, gli assistenti Chiocchi e Muto. Ora invece parliamo di Pescara Calcio perché c'è attesa per il derby con l'Ascoli, Piodo può tirare un sospiro di sollievo per il recupero di Coda e Fornasier. Ascoltiamo un altro giocatore della retroguardia, Francesco Zampano. Francesco Zampano è già vigilia di Pescara Ascoli, è una partita importante. Facciamo un passo indietro a qualche mese fa, quella gara dell'andata. Pescara giocò bene per oltre un'ora, poi ci fu un crollo, nel finale arrivò questa sconfitta. Sì, io l'andata non c'ero, che avevo male. Mi ricordo che avevamo fatto comunque una gran partita, i primi minuti, 60 minuti, poi c'è stato un crollo che comunque magari abbiamo sbagliato noi qualcosina. Adesso c'è questa partita importantissima per noi sabato e che sicuramente dobbiamo raccogliere i più punti possibili perché veniamo comunque da due pareggi e una sconfitta anche se abbiamo giocato delle ottime partite. Quindi comunque col mister la stiamo preparando bene e aspettiamo sabato per cercare di portare a casa i tre punti. Quattro partite prima dello scontro diretto con il Crotone, quattro partite per cercare di ridurre le distanze dalla formazione calabrese e presentarsi poi all'uscita con grandi ambizioni. Sì, sì, in queste quattro partite noi comunque non dobbiamo cercare di preoccuparci del Crotone, dobbiamo pensare a partita dopo partita e cercare di comunque fare queste quattro gare i più punti possibili e poi andai lunedì sera a Crotone carichi e vogliosi di fare una grande gara. Quasi per assurdo la sconfitta di Cagliari, una sconfitta incredibile per quello che si è visto in campo, ha caricato ancora più l'ambiente, al ritorno dall'isola c'erano tantissimi tifosi all'aeroporto, c'è grande attesa per questa partita con i bianconeri anche perché è un derby. Sì, sicuramente, dopo quando siamo tornati da Cagliari è stato comunque bello vedere i tifosi, tanti tifosi dall'aeroporto che comunque ci caricavano e è stato bello anche per noi giocatori, anche se comunque abbiamo perso, giustamente, però è stato molto bello. Ed ora la Virtus, Zé Eduardo lascia i compagni per motivi personali, la Virtus si prepara alla difficile gara con il Bari per il tecnico Maraiulo, l'organico è quasi al completo e noi invece ci ascoltiamo l'ex di turno, Salviato. È stata una sconfitta strana perché a me personalmente finita la partita mi ha lasciato tanta rabbia, tanto nervosismo ma a livello anche positivo perché comunque andare a Spezia e avere 4-5 palle-gole per comunque pareggiare o addirittura andare in vantaggio perché ha avuto un'occasione Ferrari subito dopo 2-3 minuti, credo. Ti fa pensare che comunque una squadra come la nostra ha i mezzi e le potenzialità per far male a chiunque, chi di prima fascia, chi di seconda, chi di terza, quindi noi non dobbiamo avere paura di nessuno. Adesso arriva il Bari, una grandissima squadra, ma noi dobbiamo lavorare su noi stessi, non tanto su di loro, loro lavorano su di loro. Noi dobbiamo cercare di proporre il nostro gioco, propositivi, giochiamo in casa, dobbiamo far vedere che comunque è un segnale forte che dobbiamo dare sia dal primo minuto. Nel calcio purtroppo ci stanno anche queste cose qua, ti dico la verità, io ho passato due anni bellissimi a Bari, diventamente anche dai sei mesi che sono rimasto fuori, perché comunque di natura sono uno che non prende mai le cose negative, cerco di prendere sempre le cose positive. Ho lavorato, ho sempre lavorato, ho fatto bene, ho ricevuto tanti buoni consigli comunque dai miei compagni, anche da allenatore, quindi sinceramente non è che io sono arrabbiato, oppure sicuramente voglio cercare di prendermi una rivincita e dimostrare magari a sua età che lasciandomi fuori sei mesi facevano meglio a farmi rientrare. A Bari è una piazza diciamo molto vivibile, però anche molto difficile, soprattutto dal punto di vista dei tifosi, perché pretendono molto, visto comunque la piazza che è e l'organico che hanno. E quando sono stato via ho avuto una solidarietà da parte di tutti che mi ha veramente commosso, non me l'aspettavo. Ora scendiamo in Lega Pro con il Teramo, una risposta immediata dopo il cappò di Aprilia. I tifosi chiedono al Teramo i tre punti nella gara con la Maceratese in programma domenica allo stadio Bonolis. In attacco Vivarini potrebbe lasciare spazio a Moreo e ora invece ascoltiamo le parole del difensore Nebil Kaidi. Mi dispiace tanto per i tifosi perché sono sempre molto caldi e molto calorosi, quindi mi dispiace perché noi ci teniamo tanto e domenica non si è visto, perché come hai detto te è stata una prestazione senza attributi, quindi bisogna cercare di svoltare pagina. chiedo ai tifosi di supportarci perché abbiamo veramente bisogno di loro e di domenica di aiutarci perché domenica è una partita fondamentale. Si può fare tutto, però bisogna pensare partita dopo partita senza fare grossi calcoli perché in questo momento non è certamente il momento di fare calcoli perché la classifica non è delle migliori per la zona alta. Però io penso che bisogna assolutamente non mollare fino alla fine. Purtroppo è un campionato così che non puoi abbassare mai la guardia, devi stare concentrato 90 minuti e concedere meno possibile all'avversario. È normale che la Maceratese sia un avversario che dà stimoli perché è una squadra terza, dobbiamo ripenerci quello che ci abbiamo tolto all'andata perché abbiamo fatto una brutta prestazione all'andata, almeno il primo tempo, quindi c'è tanta voglia di riscatto. La Nazionale Paralimpica di Ciclismo si sta allenando per le strade della provincia di Teramo e ha incontrato a Pineto le scolaresche per portare ai ragazzi un esempio di come si possano superare grandi difficoltà ed essere anche vincenti. Ospiti della giornata, i giocatori di basket a rotelle della Micacci e la special guest è stata proprio Alex Zanardi. Il servizio di Antonio Recanati. Alex Zanardi, si avvicina a Rio, si avvicina a un appuntamento importante per oggi qui, davvero una giornata importantissima. Voi siete qui da qualche giorno in queste cittadine che vi stanno ospitando davvero bene. Insomma, questi sono gli uomini del domani, quello a cui voi state spiegando le vostre esperienze. Io sono sinceramente toccato dall'ospitalità che abbiamo ricevuto qui a Pineto, ma anche in tutti i paesi che abbiamo toccato nelle nostre scorribande. Le persone si fermano per salutarci. È un'accoglienza molto bella che scalda certamente il cuore. È indubbio che per la quantità e qualità di esperienze che noi atleti paralimpici abbiamo infilato nella nostra vita possiamo offrire un punto di vista interessante. Dopodiché non è nostro compito lanciare messaggi, ma se i ragazzi hanno la curiosità di capire come alcuni problemi della vita possono essere affrontati e risolti, noi possiamo raccontare la nostra ricetta. Sono momenti di incontro certamente utili, importanti, per noi particolarmente piacevoli. Ci siamo prestati con grande onore nell'essere qui oggi. Mi auguro davvero che i ragazzi qualche cosina si portino a casa, perché in fondo la vita è una grande opportunità. Questo non significa privarsi di qualcosa, non fare le cose. Magari anche quelle che di tanto in tanto possono effettivamente comportare qualche rischio, ma farle ragionando, cercando di ragionare prima se possibile e non frittata fatta. Il Tg6 finisce qui e il prossimo appuntamento con l'informazione torna nell'edizione delle 23. Grazie per essere stati con noi.